Musica Domiciliari con braccialetto elettronico, quanto stabilito dal GEP di Perugia per il giovane di 25 anni accusato di aver partecipato alla violenza sessuale di gruppo nei confronti di una 21enne nel corso di una festa di una piscina di Ponte San Giovanni a Perugia nel luglio dell'anno scorso. Paura all'alba di questa mattina a Fabro per l'incendio di un auto articolato con sette autovetture di cui cinque completamente distrutte dalle fiamme. Il mezzo era parcheggiato in un'area per la sosta notturna nelle vicinanze del casello autostradale. L'episodio è accaduto mentre il conducente era all'interno a riposare. Si tratta di un autista di 54 anni che ha subito avvertito il fumo in cabina di guida e una volta visto le fiamme ha cercato di intervenire sul posto l'intervento della squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Orvieto. Le operazioni sono state complesse perché le fiamme al momento dell'arrivo dei vigili del fuoco già avevano avvolto le autovetture trasportate. Il conducente ha riportato durante le fasi di spegnimento alcune ostioni alle mani e anche un'intossicazione da fumo ed è stato affidato alle cure del personale sanitario che ha intervenuto. Nel corso della mattinata si sono svolte le operazioni di bonifica del luogo. La Giunta regionale dell'Umbria su proposta dell'assessore alle infrastrutture e trasporti Enrico Emelasecche ha approvato l'intesa sulla localizzazione delle opere di miglioramento tecnologico necessarie per l'attivazione del sistema European Rail Traffic Management System European Train Control System lungo la linea ferroviaria Orte-Falconara prevista dal progetto di fattibilità tecnico-economica proposto da Rete Ferroviaria Italiana e finanziato con risorse del PNRR. Un passaggio fondamentale, sottolinea l'assessore Emelasecche, per poter procedere alla realizzazione delle opere stesse che con l'adozione di funzionalità e tecnologie all'avanguardia permetteranno un miglioramento dei servizi ferroviari garantendo una velocizzazione dei collegamenti tra Umbria, Marche e Lazio e massima sicurezza. Interessati dagli interventi di progetto relativi al sistema sono i comuni di Narni, Terni, Spoleto, Campello sul Clitunno, Trevi, Foligno, Nocera Umbra, Gualdo, Tadino e Fossato di Vico. La Maestà di Assisi torna al suo splendore. È stato presentato lo svelamento dell'affresco della Madonna intorno col bambino Angeli e San Francesco di Cimabue, noto appunto come Maestà di Assisi, a conclusione dei lavori di restauro realizzato da un'equip della Tecni-Reco, diretta dal capo restauratore della Basilica di San Francesco, il professor Sergio Fusetti, grazie al contributo della Casa Automobilistica Ferrari. Il progetto conservativo è iniziato a gennaio 2023 a 50 anni dall'ultimo intervento e ha impiegato un anno di lavoro. Databile tra il 1285 e il 1290, la prima realizzata da Cimabue all'interno della Basilica, l'opera è situata nella parte destra del transetto settentrionale della chiesa inferiore della Basilica di San Francesco. L'affresco è celebre non solo per la raffigurazione della Vergine in trono, ma anche per quello che si ritiene essere uno dei ritratti più antichi, affidabili, di San Francesco stesso, realizzato, secondo la tradizione, sulla base delle indicazioni di chi lo aveva conosciuto personalmente. Realizzato con una tecnica a secco, per questo meno resistente nel tempo, dal Cinquecento l'affresco ha subito numerosi interventi di restauro, a seguito dei quali ha ricevuto modifiche rilevanti, come nel caso del volto di San Francesco. Nel 1973 è avvenuto un ultimo intervento a cura dell'Istituto Centrale del Restauro. Nel progetto appena ultimato sono state effettuate numerose indagini con diverse tecniche e strumentazioni non invasive per analizzare lo stato di conservazione dell'opera e materiali utilizzati nei restauri precedenti. Si è scelto quindi di compiere un lavoro conservativo dell'affresco rimuovendo tutti i restauri precedenti. L'intervento ha seguito il modello dell'Istituto Centrale del Restauro del 1973 con un approccio meno invasivo che ha cercato di esaltare il contributo dell'artista e si è concentrato anche sul consolidamento dell'intonaco della struttura muraria. In occasione della giornata mondiale contro il cancro infantile il comitato per la vita Daniele Chianelli ha presentato a Perugia i nuovi servizi gratuiti per i bambini e gli adolescenti in cura al reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santa Maria delle Misericordia. L'occasione è stata importante anche per fare un bilancio dell'equip di professionisti di alto livello a disposizione dei piccoli pazienti oncoematologici. Alla centro dei servizi del Chianelli non soltanto i pazienti ma anche l'intero nucleo familiare garantendo così un alleato prezioso nel percorso difficile di cura. Presente anche il dottor Maurizio Caniglia direttore della struttura complessa di oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Perugia che ha ricordato che grazie ai nuovi farmaci le guarigioni sono arrivate al 90% ma è fondamentale una diagnosi tempestiva. Presente anche la presidente della regione dell'Umbria della T6 che ha dato l'ufficialità del provvedimento per l'acquisto del nuovo acceleratore lineare. Noi oggi vogliamo presentare intanto un gruppo multidisciplinare che si è arricchito di nuove figure importantissime per l'assistenza dei bambini, degli adolescenti e degli adulti, delle famiglie soprattutto delle famiglie. Abbiamo un progetto per il futuro diciamo un tanto di inaugurare entro il mese di aprile la nuova struttura con altri 20 appartamenti asilo nido, scuola materna e nido d'argento e poi un supporto molto importante sarà l'assistenza domiciliare evitare ai bambini, ai genitori di lasciare magari la propria casa e mandare noi un medico, un infermiere e un psicologo a casa per dare veramente un'assistenza domiciliare molto importante che può evitare i disagi degli spostamenti. Poi i bambini che vanno anche a scuola così non perderebbero neanche diciamo la scuola e quando vengono purtroppo in ospedale una mezza giornata se ne va sempre. Si è concluso con il segno positivo il bilancio 2023 delle attività dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli Direzione Territoriale per la Toscana e l'Umbria tanti settori delegati all'ADM in campo tributario ed extratributario con 47.714 operazioni di controllo la Direzione Territoriale per la Toscana e l'Umbria ha garantito l'accertamento di oltre 72 milioni di euro di maggiori diritti accertati nei settori Dogane e Accise e sotto il profilo del sostegno all'impresa e all'economia quasi 63 milioni quali riaccrediti o agevolazioni liquidate agli operatori principalmente del settore autotrasporti. Dal contrasto agli illeciti extratributari è scaturito l'accertamento ed un elevato numero di violazioni e il conseguente sequestro d'ingenti quantitativi di merce. Negli aeroporti di Pisa, Firenze e Perugia gli importi non dichiarati raggiungono quasi 4,4 milioni di euro. I funzionari ADM di Livorno hanno sequestrato inoltre 520 chili di cocaina pura per un valore di mercato di oltre 35 milioni di euro con il conseguente arresto di alcuni soggetti coinvolti. I funzionari ADM operano anche attraverso l'esercizio di poteri di polizia tributaria e giudiziaria. Nel corso dell'anno sono stati accertati maggiori diritti per un valore superiore a 32 milioni di euro. Nel settore ambiente sono state sequestrate più di 80 tonnellate di rifiuti tessili e quasi 5 mila chili di rifiuti elettrici. Nella lotta alla contraffazione sono stati quasi 5 mila i pezzi sequestrati per un valore commerciale di oltre 100 mila euro. Nel 2023 inoltre sono stati sequestrati 25 chili di cosmetici e 6 mila articoli sanitari non rispondenti alle normative in vigore oltre al sequestro di quasi 20 quintali di carne e latticini sprovvisti di certificazione sanitaria. Sul fronte ai rimborsi accise nel 2023 sono state liquidate agli operatori agevolazioni economiche per complessivi 62,7 milioni di euro. Gli uffici ADM di Toscana e Umbria hanno riconosciuto lo status di esportatore autorizzato a 141 imprese. Tale riconoscimento consente all'operatore di attestare l'origine preferenziale dei beni direttamente in fattura indipendentemente dal valore della fornitura. Nell'ambito del contrasto al gioco illegale sono stati controllati 2.248 esercizi con il riscontro di 246 irregolarità. In ambito giochi sono state combinate sanzioni amministrative per oltre 237 mila euro. Nel settore tabacchi sono stati effettuati 887 controlli che hanno condotto all'accertamento di 280 situazioni di irregolarità per le quali sono state combinate sanzioni disciplinari per oltre 46 mila euro. In materia di lotta al contrabbando e vendita senza autorizzazione di tabacco e altri prodotti soggetti a imposta di consumo sono stati emessi 15 provvedimenti sanzionatori per oltre 120 mila euro. Grazie ai fondi della regione Umbria nell'ambito del piano nazionale di edilizia abitativa Atero Umbria realizzerà a Fontevoli di Gubbio una palazzina con 12 alloggi da allocare a canone speciale. Alla cerimonia di consegna delle cantiere hanno partecipato tra gli altri l'assessore regionale e le politiche della casa Enrico Melasecche il presidente di Atero Umbria Emiliano Napoletti il sindaco di Gubbio Filippo Maria Stirati Rita Cecchetti assessore al patrimonio del comune Eugubino e i funzionari di Atero. Devo dire che i fondi erano arrivati da molti anni fa dalla regione dal 2009 mi sembra che risalga questo progetto mi fa piacere che con la giunta di cui faccio parte e con l'Atero di oggi finalmente la cosa stia partendo il quartiere è molto interessante di edilizia popolare ma gradevolissimo il progetto è bello vedo anche degli olivi almeno nel render nel giardino è veramente simpatico e soprattutto efficiente e è una risposta seria perché parliamo di 12 alloggi che vanno ad aggiungersi ai 14 del progetto Pinqua che indubbiamente vanno a dare alla città di Gubbio intanto 26 nuovi alloggi l'edilizia pubblica popolare è sempre una grande conquista perché c'è grande fame di abitazioni naturalmente per i ceti più fragili più deboli più svantaggiati della nostra comunità quindi è una risposta importante questo tra l'altro è un finanziamento che viene da molto lontano perché il primo corpo finanziario appartiene addirittura all'ex PUC dell'ex ospedale che fallì miseramente e quindi da lì abbiamo dovuto recuperare questo terreno naturalmente grazie al rapporto di collaborazione istituzionale con la regione con Ater che ovviamente ringrazio però ecco c'è stata grande tenacia da parte nostra perché allora quando io mi insediai nel 2014 questa prima fonte di finanziamento che era un milione e tre oggi era addoppiata rischiavamo di perderla Ater in collaborazione con la regione e con il comune anche qui porta avanti un intervento di notevole importanza ciò perché si completa una area in un quartiere con potenzialità di sviluppo molto interessanti e soprattutto perché la realizzazione consisterà in 12 alloggi progettati e realizzati secondo elevati standard progettuali e di efficienza energetica tutto questo comporterà la possibilità per i residenti di avere un'eliqua elevata qualità dell'abitare che si tradurrà anche in una efficiente gestione dell'immobile dal punto di vista dei costi ecco dunque che Ater continua nella sua filiera di interventi in tutta la regione con una particolare attenzione alla qualità dell'abitare il 26 gennaio scorso è stato rinnovato il contratto dei lavoratori delle cooperative sociali che ha introdotto delle importanti novità a beneficio dei lavoratori un incremento di 120 euro al mese a regime l'introduzione della 14esima mensilità il potenziamento della maternità e altre tutele per le lavoratrici e i lavoratori in Umbria lavorano nelle cooperative sociali 9.500 persone di cui l'80% donne con 1.000 lavoratori diversamente abili e svantaggiati questi erogano servizi a favore di circa 80.000 cittadini il nuovo contratto ha un impatto importante anche sui bilanci delle cooperative dal mese di febbraio il costo del lavoro cresce del 4% a regime aumenterà di oltre 13 punti percentuali ciò significa che le cooperative sociali dell'Umbria registreranno un incremento dei costi nel solo 2024 di 10 milioni di euro che a regime a fine 2025 salirà a 25 milioni di euro in Umbria le cooperative sociali svolgono un ruolo centrale nelle politiche pubbliche ed il 90% dei ricavi deriva da contratti o convenzioni che le cooperative hanno con le amministrazioni pubbliche è per questo motivo che oggi chiediamo pubblicamente alla regione alle asle e ai comuni di adeguare in modo celere i contratti e le convenzioni in essere solo in questo modo sarà possibile garantire la sostenibilità del nuovo contratto della cooperazione sociale il liceo scientifico Alessi di Perugia ha ospitato il secondo incontro del progetto educazione e sicurezza stradale promosso dal Rotary Club Perugia-Trasimeno insieme alla scuola in collaborazione con la polizia stradale di Perugia e le polizie locali di Corciano e Magioni obiettivo primario dell'iniziativa è quello di stimolare una sempre maggiore sensibilità verso il rispetto delle regole sia normative sia comportamentali per prevenire gli incidenti stradali divenuti ormai una vera e propria piaga da combattere che coinvolge sempre di più i giovani e che in massima parte sono prodotti dalla velocità e dalla distrazione causata soprattutto dall'uso del telefonino i 30 studenti delle ultime classi del liceo Alessi che hanno aderito al progetto hanno partecipato molto attivamente e con grande entusiasmo all'incontro con Luca Panichi campione paralimpico di ciclismo Gustavo Sandrucci pilota responsabile dell'AMG Driving Academy e Nicola Pedini product expert Mercedes Benz Siamo alla terza puntata di questo progetto assolutamente interessantissimo e utile per i ragazzi perché appunto come dicevamo prenderanno la patente da poco fra poco ma la sicurezza stradale è sicuramente un tema di attualità di estrema importanza e che diciamo così va ben oltre quelle che le questioni stradali ma riguarda proprio un convivere civile un'educazione generale che tutti gli studenti soprattutto a questa età devono avere Con una cinquantina di realtà imprenditoriali aderenti fra piccole e medie imprese e start-up ha preso il via l'Accademia Pratica dell'Innovazione API fortemente incentrata sull'innovazione e sul supporto all'imprenditorialità che sperimenta un approccio mirato a creare una filiera dell'innovazione rafforzando e personalizzando strumenti e servizi offerti in ciascuna fase di sviluppo dell'impresa a partire dalla definizione dell'artefatto un nuovo percorso di accelerazione incentrato su formazione frontale pratica attraverso un confronto costruttivo step by step il progetto che rientra tra le strategie di sviluppo regionale del programma regionale cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 S3 rafforza ancora di più il processo di scoperta imprenditoriale rivolto alle piccole e medie imprese e alle start-up innovative Umbre il percorso che andrà avanti fino a luglio si è aperto con i saluti istituzionali dell'assessore regionale dello sviluppo economico Michele Fioroni e dell'amministratore unico di sviluppo Umbria Michela Sciurpa nella sede di Foligno e della stessa società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria l'Accademia Pratica dell'Innovazione allo scopo di sviluppare nuove conoscenze abilità pratiche per fare innovazione crescere e avere impatto trasformativo le stesse metodologie si avvalgono di un percorso che va ben al di là di quello tradizionale poiché i laboratori permetteranno di applicare a casi concreti le nozioni acquisite rivolta sia alle realtà più innovative sia alle imprese operanti nei settori più tradizionali proseguirà con due percorsi di pratica mirati uno per le piccole e medie imprese per gli alunni del precedente ciclo di smart-up uno per le start-up l'API sarà composta da più step e si servirà di tools per garantire un vero e proprio accompagnamento verso l'innovazione saranno presentati questionari di valutazione per valutare la prontezza all'innovazione e un gruppo WhatsApp sarà sempre aperto a suggerimenti rinforzo e scambio tra pari ogni laboratorio che avrà luogo circa ogni 20 giorni in presenza presso la sede di sviluppo Umbria sarà un momento imprescindibile per calare sulle esigenze dell'impresa e dei singoli progetti le nozioni o pratiche descritte durante la formazione teorica affidati i lavori da un milione di euro per il restauro e la valorizzazione del retratto delle mura urbiche di città di Castello compreso tra le Torrione e Porta San Giacomo l'intervento che sarà eseguito dalla soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria con un finanziamento del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo interesserà anche la parete interna prospicente via Campo dei Fiori e sarà finalizzato al recupero e al consolidamento statico strutturale della cinta muraria che al termine dei lavori sarà impreziosita con un impianto di illuminazione monumentale a distanza di oltre 20 anni dall'avvio della riqualificazione delle mura urbiche ha dichiarato il sindaco Luca Secondi l'intervento che si concentrerà a San Giacomo darà continuità per valore delle opere e tempistica al restauro complessivo della cinta muraria cittadina che ha vissuto recentemente un'importante tappa con il completamento del tratto tra Palazzo Vitelli a Sant'Egidio e l'eliceo statale Plinio il Giovane che abbiamo recuperato e valorizzato grazie ad un finanziamento regionale da 1 milione e 500 mila euro e che inaugureremo ufficialmente tra marzo e aprile 2024 il milione di euro previsto per l'intervento nel tratto compreso tra il Torrione e Porta San Giacomo porta al totale di quasi 6 milioni di euro l'investimento complessivo sostenuto finora per il restauro delle mura orbiche tifernati e Grazie a tutti Perugia al lavoro in vista del big match di domenica, secondo posto nel Mirino, si gioca al Vanni Sanna di Sassari contro la Torres con fischio d'inizio. Alle 14 un Perugia rinfrancato dal successo arrivato all'ultimo tuffo contro la Fermana, 1-0 firmato dai giovani assist di Polizzi. Rete di Seghetti, importante, importantissima per le prospettive future dei Grifoni, la rete messa a segno proprio da Seghetti. Arrivato in una partita in cui, a causa squalifica, mancava Silla, sbarcato a inizio stagione a gennaio al Curi per provare a desaltare anche le doti del giovane compagno di reparto. La cui intesa con l'ex vispesaro necessita ancora di tempo per essere perfezionata. E chissà che il gol contro la Fermana, il primo realizzato da Seghetti nell'era Formisano, che lo conosce molto bene, possa accelerare lo sviluppo della coppia. Che a Sassari contro la Torres potrebbe partire dal primo minuto. Difficile, invece, ipotizzare una partenza fra i titolari di Polizzi, che si gode comunque la prima giocata di rilievo fra i professionisti. Marchigiano di Macerata, proprio come Seghetti, nativo invece di San Severino Marche. Polizzi è un attaccante esterno mancino che può giocare sia a piede forte che a piede debole. Non a caso, contro la Fermana, il cross di sinistro per il compagno è partito proprio dalla destra. Grazie all'abilità nel calciare può agire anche da seconda punta. Polizzi è arrivato al Perugia dalla Maceratese a 15 anni, facendo la trafila nell'Under 16 prima, nell'Under 17 poi, per approdare la scorsa stagione in primavera, dove nella prima parte di questa stagione aveva realizzato sei reti. Contro la Fermana, come già accaduto a Vercelli contro il Sestri Levante, è entrato a una manciata di minuti dalla fine. E stavolta Polizzi, che ha esordito fra i pro il 23 dicembre contro il Cesena, ha lasciato il segno con l'assist decisivo per Seghetti. A spingere e salvare il Perugia, insomma, sono stati dunque un classe 2005 e un classe 2004. Grifoni, giovani sì, ma che hanno dimostrato di essere pronti. Rompere lo scoglio delle vittorie in trasferta per tornare a correre in campionato dopo il pari contro lo Spezia Liberati. A questo l'obiettivo della Ternana, che domani alle 14 affronterà la Reggiana in una sfida fuori casa, delicata per diversi aspetti. Le ferie, dopo la beffa del pareggio in extremis contro i Liguri, sono sempre alle prese con la rincorsa. La zona salvezza, oggi distante, 5 punti. Di fronte, la squadra con cui la Ternana riuscì nel giro è andata a incamerare la prima vittoria dell'era farmaguida e l'unica della precedente gestione tecnica, prima dell'arrivo di Roberto Breda in panchina. Nonostante il cambio, però, la Ternana continua a non brillare nel ruolino di marcia, lontano da Liberati, con 8 punti frutto di due vittorie e altrettanti pareggi e 7 sconfitti, la squadra di Breda è quella con il peggior andamento esterno della categoria. Un ultimo posto in questa speciale classifica, che fa diventare la prossima sfida un crocevia importante nel prosiego della stagione, alla luce anche del solo punto guadagnato nel doppio turno casalingo. La Ternana fuori casa ha realizzato 15 gol, subendone 22, terza peggior difesa esterna della B dietro sulla Spezia e Lecco insieme alla Feralpi Salò. Di fronte alla Reggiana guidata da Nesta, che pur venendo da una serie di 7 risultati utili consecutivi, 3 vittorie e 4 pareggi, dei 30 punti sin qui totalizzati in stagione, ne ha collezionati 14 in casa. Passando al campo, non ci saranno Favasuli, in convalescenza post-operatoria, e anche Viviane e Tia ancora non al meglio. Fortunatamente ci sarà subito il modo per riscattarsi, dopo la sconfitta di Carrara, perché lunedì sera, con fischio di inizio alle 20.30, il Gubbio affronterà in casa la Virtus Sentella degli ex Bonini, Porta 9 e Montevago. Un capo è arrivato dopo una striscia positiva di otto partite, dove il Rosso Blu avevano ottenuto 7 vittorie e un pareggio. Rispetto alle prestazioni precedenti, a Carrara il Gubbio è stato meno brillante del solito e ha avuto a che fare contro un'amversaria ben orchestrata in campo, il ruolino del nuovo tecnico Calabro del resto parla da solo, con i canarini che hanno avuto la caparvietà di mostrare i denti fin dal primo minuto, sfruttando l'esperienza di diversi elementi del team mapuano. Esteticamente non si è visto il Gubbio spumeggiante ammirato contro il Pescara e anche nel reparto arretrato non è stata mostrata quell'autorevolezza che aveva contraddistinto l'ultimo periodo della formazione di Braglia. Particolare sofferenza soprattutto nella parte nevralgica del campo, dove il trio di Mediana non è stato capace come al solito di proporre giocate veloci e dinamiche. A parte qualche sfuriata, vedi l'occasione di Bumbu nel primo tempo, solo a metà ripresa il Gubbio è cresciuto di tono e guarda caso sono arrivate le azioni più pericolose, con De Sogus e la sua conclusione salvata sulla linea dagli Anes e con il palo centrato di testa da Di Massimo. L'occasione per il riscatto però, come detto, è subito servita e Braglia e i suoi ragazzi sono tornati immediatamente al lavoro per preparare al meglio la sfida con l'entella di lunedì. La Sir Perugia blinda Ole Plotnitsky fino al 2026. Lo ha comunicato la stessa società attraverso una conferenza stampa sui generis, con Kamil Semenuk, Simone Giannelli e Seba Solè a fare le veci dei giornalisti. Lo schiacciatore ucraino rinnova per altre due stagioni. Dopo il rinnovo con Giannelli e Russo, insieme al quale Ole è arrivato a Perugia nel 2019, la società del presidente Sirci piccona un nuovo paletto fondamentale del progetto futuro, assicurandosi le prestazioni dei 26enne fino al 2026. Cinque stagioni di grande pallavolo, quelle vissute finora da Plotnitsky a Perugia. Cinque stagioni che hanno visto sbocciare il talento incredibile del ragazzo dal mancino letale, cresciuto anno dopo anno in modo vertiginoso, con il duro lavoro in palestra, fino a diventare un posto 4 completo e di respiro internazionale. Quattro Supercoppe italiane, due Coppe Italia e due Mondiali per club, la bacheca di Plotnitsky con Perugia MVP a ripetizione solo in quest'ultima stagione sia al Mondiale per club sia in Coppa Italia, uno dal sangue e freddo in campo, come nelle migliori tradizioni del volley dell'est europeo, uno che fuori dal campo è l'amico che tutti vorrebbero avere, un concentrato di entusiasmo e simpatia che ha fatto breccia nel pubblico del Palabarton, a cui dedica ogni suo ace ed ogni suo punto. La squadra intanto partirà domani alla volta del capoluogo Veneto, dove domenica va in scena la terz'ultima di regular season. Con una vittoria con qualsiasi risultato, il secondo posto è matematico. La squadra intanto partirà domani alla prossima. La squadra intanto partirà domani alla prossima. La squadra intanto partirà domani alla prossima. La squadra intanto partirà domani alla prossima.